Dal voto sale la febbre da elezioni a Marina di Gioiosa dove, in attesa dell'apertura delle urne domenica 10 novembre, la politica è tornata al centro del dibattito cittadino. Come sempre, accade in questi casi, infatti, tra chi azzarda pronostice e chi ancora indeciso, prova a chiarirsi le idee per arrivare preparato all'appuntamento elettorale di domenica. Il Paese è diventato in queste ore una tribuna politica a cielo aperto, mentre i due schieramenti battono colpo sul colpo per guadagnarsi la fiducia degli elettori. Ma se da un lato le attività delle dualiste in campo diventano sempre più frenetiche, tra gli incontri con la cittadinanza, le visite alle contrade o le altre realtà cittadine, dall'altra parte, essere stato accantonato del far play che aveva caratterizzato la campagna elettorale fin dalle premissime battute, il clima, in questi giorni e in queste ore, si è fatto rovente qualcosa. Infatti pare aver rotto gli equilibri e dalla stretta di mano tra i due candidati a sindaco avvenuti in municipio al momento della presentazione delle liste, si è passati allo scontro verbale di generato, in qualche caso in pettegolezzo vero e proprio. Il campo di battaglia ha privilegiato i social network, dove il candidato della lista per Marina di Gioio Saionica 2025 e Geppo Femia ha punzecchiato in più occasioni il suo rivale Giuseppe Enunziato Belcastro, capolista di Marina di Gioio Saionica, cittadina solidale ed attivi per il bene di tutti. Femia infatti pare non aver mandato giù alcune esternazioni fatte dal rivale e questo ha scatenato la sua reazione, mentre dal canto suo Belcastro si è limitato ad incassare il colpo e provare a mettere fine alla discussione. In tanti infatti hanno voluto esternare il proprio disappunto, invitando i due contendenti a sotterrare l'ascia di guerra e concentrarsi sui reali problemi del paese senza lasciarsi andare, a voli pindarici o chiacchiere da bar. In un momento così delicato, dopo due commissariamenti molto ravvicinati, Marina di Gioio Saionica ha infatti bisogno di una programmazione a lungo termine e di una fattiva collaborazione di tutte le forze in campo per affrontare con serenità il futuro prossimo. Mancano ormai pochissimi giorni al voto e in questi ultimi sprazzi di campagna elettorale ai due schieramenti rimane quindi l'onere non solo di convincere gli incerti, ma soprattutto di portare al voto quanti al momento hanno intenzione di disertare le urne. Un alto tasso di astensionismo infatti sarebbe per la cittadina Ionica la più grande delle sconfitte. giovedì sera alle 21.45 in prima serata sul nostro canale ci sarà la puntata di confronto al voto al voto con Giuseppe Enunziato Belcastro e Geppo Femia.